rinasce il cantautorato sociale ecco beat b ovvero beatrice bruco di 22 anni con la musica nel cuore da quando è nata entrata tre anni fa al conservatorio giuseppe verdi milano dove frequenta il corso di canto popular music ed ecco il suo vero debutto nel mondo dei videoclip musicali attraverso le sue canzoni beat b cerca di svelare un mondo sommerso giovanile di cui si parla poco affatto il suo obiettivo quindi dare voce alle attuali inquietudini dei ragazzi soprattutto di quelli che rappresentano una realtà nascosta e lontana dalle immagini stereotipate dei blogger ed influencer vari canzone che interpreta beat b di cui è autrice del testo su musica di antonio summa narra di marta una giovane ikiko mori una ragazza affetta da quella sindrome di alienazione sociale che porta alla segregazione volontaria nella propria stanza in una sorta di suicidio sociale a Qu'on cancella, vengono, del nere, d'acto, na